e accacciandoci all'intervista con Ariane Colani parliamo del film che apre l'Eurobalkan Film Festival di questa edizione ma che sarà anche al cinema da domani nelle sale si tratta della gita scolastica titolo originale in inglese Excursion e in bosniaco vallo a sapere cioè no lo so Excursia probabilmente o qualcosa di simile è un film della regista Una Gunjak nata e cresciuta a Sarajevo appunto in Bosnia e Herzegovina e regista che sarà in Italia oggi all'antepriva nazionale di questo film proprio all'Eurobalkan Film Festival. Allora questo film devo dire che io sono stata colpita da un po dalla trama che ho letto e quindi sono stata interessata diciamo di vedere questa quest'anteprima è la storia di Iman che è un adolescente terza media sì siamo in terza media e la sua classe deve partire in gita scolastica e quindi siamo in quel momento in cui si decidono le destinazioni se vi ricordate o da diciamo studenti o da genitori è un momento abbastanza come dire delicato perché ci sono in ballo tutta una serie di di equilibri che sono equilibri economici per cui bisogna scegliere una meta che anche la maggior parte perlomeno si può permettere in massimo sarebbe che tutti si possono permettere dal punto di vista economico ma deve essere anche una meta diciamo accessibile e una meta sicura loro sottolineano molto in questa i genitori di questa classe la sicurezza perché perché si fa riferimento in particolare ad un evento che risale al 2014 se non sbaglio sono andato un po recuperare in cui sette studentesse bosnia che tra i 13 e i 15 anni sono rimasta incinta dopo una gita scolastica di cinque giorni a Sarajevo. Caso che è arrivato agli onori della cronaca addirittura come dicevamo prima ne ha parlato anche il Tg sì è un caso che viene da Bania Luca in Bosnia ed è un caso che viene citato ed è stato anche un po l'ispirazione per la regista citata all'interno del film e cosa succede? Iman che è appunto questa ragazza si è presa una cotta per un ragazzo più grande che si chiama Damir e ha diciamo cavalcato un po delle voci che erano state messe in giro in realtà dallo stesso ragazzo riguardo un loro rapporto sessuale però diversamente da quello che si fa di solito lei ha alimentato queste voci lei alimenta queste voci e cerca un po di definire il proprio ruolo all'interno della scuola come quello della ragazza che ne sa che sa fare no e anche per colpire lo stesso ragazzo che le interessa questo Damir sembrerebbe appunto una storia banale una storia è effettivamente una storia semplice forse io penso avrebbe potuto essere anche più incisiva in alcuni momenti quello che è interessante è un po quello che ne viene fuori rispetto alla società bosniaca in questo caso ma in generale alla società cioè lo sguardo sempre comunque molto maschile e anche molto giudicante perché quello che succede è che di fronte a questa voce che viene diffusa e ovviamente tutti iniziano a prendere posizioni e la maggior parte soprattutto i maschi scelgono di prendere la posizione del ah però vedi lei in fondo è cioè scelgono la via del degradante cioè decidono che questa cosa che lei fa non è affascinante ma degradante così come quelle sette ragazze tornate incinte dalla gita se la sono cercata che è quello che in effetti a un certo punto un padre dice non c'è minimamente l'ombra del dubbio che questa non fosse una bugia di una bambina di una ragazza della terza media non c'è per nulla l'ombra del dubbio che il corpo insegnante possa ma anche gli stessi ragazzi che alla veneranda età con una maturità che sicuramente è più sviluppata di un bambino piccolo anno per gestirsi in gestirsi in una situazione digitascolastica c'è veramente il sentimento la sensazione che il la fiducia verso i ragazzi le nuove generazioni e appunto per quanto riguarda la regista la visione della regista una gunjack abbia fotografato una fiducia veramente labile ma tutto questo tutto il racconto tutto il il periodo appunto di preparazione alla gita scolastica che poi è proprio un obiettivo è il titolo del film ma è esattamente il il punto di arrivo di tutti i cuori di tutte le persone coinvolte in queste ritratte in questo film è esattamente il viaggio e lo vediamo questo viaggio verso verso un'affermazione la creazione la realizzazione di questa gita scolastica ma la realizzazione come finalmente tutte le nostre relazioni nostre amicizie si condenseranno in una cosa da fare insieme quindi si prepara ci si prepara come andare a come vestirsi ma anche come vestirsi di reputazione sì diciamo che questa che può essere una bugia una verità o comunque una voce che riguarda le scelte sessuali di una ragazzina poi diventa dirimente rispetto a tutto il resto la la stessa regista ha raccontato che appunto questa vicenda delle sette e le dicenni incinte ha portato una serie di reazioni veramente spropositate le ragazze non furono giudicate accusate e umiliate e la notizia delle pregoci ragazze bosnia che comparve persino sulla stampa internazionale questo raccontarei questa diffusione alimentata dalla gran cassa dei predicatori moralisti locali ha trasformato la storia in un'isteria di massa la verità su cosa accadde realmente non conta più e questo mi colpì dice lei la mia attenzione si concentra ancora di più sulla verità personale di queste giovani come gestiscono la loro sessualità ancora cerba cosa davvero guida le loro azioni i loro desideri nella società di oggi specialmente in una società così chiaramente defunta lei dice come quella bosniaca quindi insomma è interessante perché in realtà è anche un film su a parte sulla su quello che è la verità su cosa può essere verità e su quanto sia importante conoscere o meno la verità insomma in alcuni momenti forse quello che diventa più forte è il giudizio il giudizio sul corpo di questa ragazza il giudizio su quello che lei decide di far passare o meno no della bugia o la verità e la storia personale di mam di man diventa un veicolo per riflettere sulla sua società questo dice sempre la regista lei è una una donna ormai ultra lentenne che evidentemente come spesso sta succedendo ha sentito il bisogno di raccontare la sua società attraverso i più giovani perché evidentemente e questo mi pare che forse sia una realtà che dovrebbe essere un po più chiara a tutti che è da lì che dobbiamo ripartire no che dobbiamo che dobbiamo che dobbiamo guardare cioè non possiamo guardare a gente che ha oltre 40 oltre 50 anni perché quella è una società morta che sta morendo cioè è come concentrarsi su sui cadaveri non so come dire cioè piuttosto che sui nuovi nati voi direte i nuovi nati sono pochi è appunto questo è un po il problema però ecco guardiamo seguiamo un po questa via del guardare alle generazioni più giovani con interesse e non con giudizio il film proprio l'occhio del del film è proprio su di loro sui ragazzi ma anche sulla coppia di amiche la protagonista è asia zara lagut smilia se non ho sbagliato tutto il rapporto tra lei e la amica che inizialmente è un gioco di sguardi continuo è un po lo stesso gioco di sguardi di complicità che c'è appunto durante un compito in classe c'è una scena molto caratteristica che probabilmente vi riporterà quella scena ma anche altre scene indietro nel tempo io mi sono immedesimato moltissimo in determinate dinamiche anche appunto la l'architettura il contesto scolastico è abbastanza simile ahimè alla scuola che che vivono e viviamo vivevamo vivono e se non succede qualcosa di migliore vivranno le anche i prossimi e le prossime ragazze e ragazze che frequenteranno le scuole medie ma le scuole in italia il l'alchimia che c'è tra queste due personaggi è veramente il valore aggiunto ed è il binario su cui corre tutto il film che in 93 minuti racconta prendendosi anche il tempo di esplorare le case i luoghi di ritrovo che sono un po tutti uguali guardandolo flavia commentavi che io dicevo che alla fine gli adolescenti sono uguali un po dappertutto nel senso che hanno un po delle caratteristiche comuni ancestrali no di quell'età che poi variano solo magari alcuni monti nel linguaggio no che può essere un po più geolocalizzato ma per il resto l'atteggiamento è quello cercare di essere accettati dal gruppo dei pari cercare di attirare l'attenzione ma contemporaneamente senza attirarla troppo è bello vedere queste dinamiche dall'esterno sentendo un'empatia una vicinanza sicuramente in dubbio però anche capendo che le cose sono cambiate rispetto a quando era cioè è vero che gli adolescenti sono universalmente simili ma quello che cambia è la società che li circonda e che ha ovviamente poi delle ripercussioni sul loro modo di di vedersi e di vedere e se vi abbiamo incuriosito sulla sul film appunto la gira scolastica vi consigliamo di guardare il film con gli occhi ben aperti ma soprattutto notare dove siamo noi noi appunto noi i nostri coetanei dove sono in che posizione sono sono seduti sono seduti davanti alla televisione del messaggio che ci arriva io faccio parte della generazione morta ma pure io il problema sta nella difficoltà di comunicazione con i nostri figli non siamo prevenuti a prescindere io sono contenta che tu che scrivi non sia prevenuta a prescindere ma tanta gente invece lo è e questo è il problema secondo me cioè non possiamo questo vale per tutte le cose cioè essere prevenuti è un problema in ogni caso bisogna conoscere e forse quello che che non non si fa cioè quello che si fa troppo è addossargli delle responsabilità e delle delle dinamiche che sono in realtà dinamiche provocate da qualcos'altro e o che comunque andrebbero approfondite io capisco che la comunicazione è un problema grosso lo è sempre stato nessun nessun adolescente ha facilità di comunicazione con con gli adulti men che meno gli adulti con gli adolescenti però ecco dargli non so come dire dargli dei delle etichette cosa che spesso fa il mondo cioè nel senso magari tu uno non etichetta il proprio figlio però il mondo etichetta la generazione questo sì a non fanno niente a stanno sempre davanti al telefono a fanno solo questo ecco questo è un problema comunque che vale per tutto cioè dare un un etichetta è sempre sbagliato fabrizio scrive da padre di una sedicenne ho quasi più paura di questo film che degli horror e lo posso capire soprattutto se sei da parli di sedicenne donna che questa un po si fa un po paura la gita scolastica al cinema dal 7 di novembre in anteprima nazionale all'euro balkan film festival con la regista presente in in sala io vi consiglio di darle una una possibilità di sicuramente dargli un'occhiata anche soltanto il trailer ma se vi fidate di noi andate direttamente in sala e poi ci farete sapere grazie grazie grazie